Grazie a tutti. Mi sembra anche il minimo. 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 David! David! Where are the cars? Where are the cars? Over here! David! 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 lavorare con il terreno e ce l'ho fatta il mio cosiddetto vabbè va bene, va bene come andiamo? va bene, va bene come andiamo? Devin! 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 Capire Reading! Detto uno está los grandes para nosotros. Devin! Si haces ahí un buen deigg Krank. Devin! Gli vuole fare un'altra ore? D'abbè? Dov'è? Dov'è? Licensei! Filma! Filma, vai, viaggia! Viaggia di film, cazzo! Viaggia! Dov'è l'enico dell'igiene? Eccolo, lo sto tutto graffando! Dov'è? E' là, è così con l'orecchino! Sì, lo hai visto? Ante! Vada! 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 Sono troppo stronzi! Sicuramente i poliziotti! Stronzi! Sarò loro! Vada a entrare con i che devono lavorare! Non c'è Girona Nini per caso? Si vede? Si, no, non c'è! E' là, in fondo? No, non si vede! Ecco, lo lascio! C'ho Rios e David! Eccolo lì! Ma tu non avrai visto la foto? Ce l'hai tu o mio discorso? Ah, grazie! Ah, ma glielo ho fatto! E anche Bowie? Ce l'ho fatto io, ma ho fatto uno scarabocchio! Levati Luca! Levati! Ligia, le foto! E' il cazzo! 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 Io c'ho tutto... E' il cazzo. E' il cazzo! T'ho fatto, mi sento che c'ho la paglia sulla palla! E' il cazzo! E' il cazzo! io l'ho visto appena appena dai no no hey hey non mi spingete troppo via lì, 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 lì si, si, ce la sto facendo benissimo lo vedo, lo vedo ecco fai due macchina si, si fai due macchina 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 riuscite via tuffing mi retosico non riesco meraviglio ma che sindicato si, xvi Cazzo, se messo... La cocco! Cazzo, no! Fermo di Ocane! Riesce, riesce! Cazzo è sto stronzo! Bellissima! Mi è una mummia quell'uomo lì ormai! Madonna, sì? Bene, te lo dico? Spostati! Cazzo! Cazzo, non vedo una minchia! Ci sono in generale! Cazzo, cazzo! Cazzo, non vedo un'altra! Cazzo, non vedo un po' di inni! Cazzo, non vedo un po' di inni! Allora, questo è qua. Allora, si ricomincia. Arco, signori. Arriva, arriva. Ancora. Ah, madonna. Ancora. Ancora. Scusi, facci soff, facci soff. Guarda, guarda. 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 tutti in? vai 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 Sandro, ti raccomando 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 Chi è che deve farci fare autografo? Dai, Gloria! Dai, 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 dai! Eh, anch'io! Perché devo aspettare io e tu, no? Non ho capito! Eh, anch'io! Le scoperte! Excuse me, ho caricato Leo! Dai, Gloria! Mi sta andando qui! Eh, prendi ancora un po'? Ti devo tirarla fuori, io volevo fargliela fare a lui! Guys, thank you! Ok! Dai, stavano! Stavano! Stavano, blocca tutto! Stavano! Stavano! Che c'è lui! Stavano! Spontale! 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 Spontale!